Allora ragazzi, partita letteralmente a due facce. Alla fine del primo tempo, nonostante l'Atalanta ci avesse ribaltato il risultato, comunque ero abbastanza soddisfatto. Perché avevo visto una Fiorentina totalmente diversa rispetto alle altre partite, una Fiorentina più concreta, più pragmatica, meno dietro e legata a cincischiare, a provare il fraseggio, il possesso palla, ma più verso la verticalizzazione, più verso la porta, tant'è che addirittura avevamo tirato più in porta noi rispetto all'Atalanta. Secondo tempo blackout totale, cioè secondo tempo una Fiorentina più brutta, forse una delle più brutte viste fino ad oggi. Non so cosa sia successo, non so se è legata alla stanchezza, non so se è legata alla forza dell'Atalanta, perché comunque abbiamo affrontato, ragazzi è inutile girarci intorno, però la vincitrice dell'Europa League, che non vuole essere una giustificazione, ci mancherebbe, però dico, chiaramente la forza dell'Atalanta è quello che chiaramente da amante un po' del calcio ti fa impazzire, e che loro riescono a accelerare e a decelerare il gioco in maniera vertiginosa a loro piacimento. Ecco, se noi riuscissimo a fare quelle cose lì, sicuramente una partita come quella di oggi, seppur ostica, riesci a portartela a casa. Non ci stai riuscendo, non ti riesce, sei molto lontano da quella condizione, e quindi chiaramente ti serve, ti basta, tra virgolette, un lookman che si accende, accende la lampadina, l'inventiva, e ti riesce praticamente a ribaltare quasi da solo la partita. Tu non hai un lookman, tu non hai una potenza, un gioco come quello dell'Atalanta, però nel primo tempo, come dicevo, ero anche abbastanza soddisfatto, perché c'erano quelle sane e digestive palle lunghe e pedalare, però erano anche abbastanza oculate, perché erano sempre a cercare l'attaccante, Ken, che fra parentesi, ragazzi, a me spesso non sembra neanche sia nostro, cioè mi fa anche specie pensare che questo sia un nostro attaccante, perché un giocatore forte in quel modo io non sono più abituato, non sono veramente più abituato. Però concentriamoci nelle cose che non sono andate, perché le cose buone viste oggi nel primo tempo sono diverse, possiamo dirlo tranquillamente, sono buone, abbiamo fatto un buon primo tempo nonostante, come dicevo, ce l'abbiano ribaltata, nel secondo tempo malissimo, siamo partiti male, veramente male, abbiamo rischiato anche con un'accelerazione di Bellanova, che ragazzi in quella fascia è imprendibile, però abbiamo rischiato anche il quarto gol sotto le gambe di De Gea, abbiamo rischiato in altre situazioni, ci manca, e questa è una grossa verità, l'abbiamo detto anche nel video di ieri, ci manca un vero marcatore, un marcatore a homo, in difesa, perché ragazzi, tutte le volte ci puntano in difesa, si balla, si trema, e il marcatore che l'anno scorso, come detto, ma non per rimpiangere chi c'era prima, però l'anno scorso c'avevi con tutti i suoi difetti, Milenkovic, che permetteva anche una libertà diversa, giocatori come Quarta, come Ranieri, anche di prendere e partire avanti, o anche di a volte commettere qualche ingenuità, perché comunque avevi un ultimo uomo, quest'anno non ce l'hai. Pongracic, infatti, è stato inserito dopo, potrebbe essere, dovrebbe essere lui, aspettando i vari Moreno, Valentini, che non sappiamo bene ancora come giocano, non l'abbiamo visti dal vivo, comunque da vicino, quindi prima di giudicare loro, chiaramente ti manca un giocatore che, ripeto, come Milenkovic, seppur Milenkovic commettesse chiaramente diverse ingenuità e comunque non era un giocatore, il giocatore di 3-4 anni fa, però comunque era un giocatore che ti poteva tenere l'equilibrio. Adesso il marcatore in teoria lo sta facendo Biraghi, ma si vede che è adattato a quel ruolo, si vede che fa tanta fatica. Il centrocampo ti posso dire che il primo tempo mi è anche piaciuto, chi più chi meno, perché poi, per esempio, un Colpani gli si chiede tanto di più, Bove gli si chiede tanto di più, Cataldi l'ho visto sicuramente meglio, Mandragora, a parte l'assist sul secondo gol, poi anche lui in certe situazioni ha fatto un po' di fatica. Comunque, grosso modo, a livello generale, non posso dire che non mi era piaciuto il secondo tempo, io, anche l'inserimento di Richardson, per esempio, o di Adli, dopo non sono serviti a niente, perché eravamo totalmente slegati, cioè, se il presente si era fatto due o tre passi in avanti, siamo tornati indietro. Ragazzi, che dire, prendiamoci per adesso il primo tempo, senza catastrofismi, senza psicodrammi, perché anche una Fiorentina gioca insieme da cinque anni, poteva andare a Bergamo e raccattarle, e ripeto, questa non è una giustificazione, non deve essere una giustificazione, però cerchiamo, in questa fase, di vedere ciò che va bene e ciò che va male. Ciò che va male, assolutamente un secondo tempo, da rimetterci completamente le mani. Ciò che va bene, un primo tempo, dove una Fiorentina cercava di giocare in velocità, in verticale, e cercava sempre e continuamente l'attaccante. Io mi prendo questa parte. Poi, domani avremo modo anche di analizzare più nel dettaglio, con, ovviamente, le pagelle, tutta la partita, però contro la Lazio dobbiamo ripartire dal primo tempo. Dimentichiamoci il secondo tempo. Voglio sentire la vostra.